La stanza sopra l'emporio è vostra. Sono tempi duri perché non la date in affitto. Quella stanza? No, neanche per idea. Molti credono che sia stregata. Stregate? Già. Come dar loro torto? Sapete, anni fa è successo qualcosa lassù. E non qualcosa di bello. 15 anni. Ho penato all'inferno per una falsa accusa. 15 anni passati a sognare di tornare a casa da mia moglie e mia figlia. Beh, non si può dire che gli anni siano stati clementi con voi, signor Barker. No. Nessun Barker. Quell'uomo è morto. Esiste Todd adesso. Sweeney Todd. Colui che avrà la sua vendetta. No. Finalmente, il mio braccio è nuovamente intero. Pronti? Pronto? Pronto. Grazie a tutti.